Sulle colline marchigiane è tornato alla grande il pirata Ivano Nicoletta. Nella seconda gara del CVF 2023, che si è disputata nel fine settimana del 6 e 7 maggio a Cingoli, Ivano Nicoletta è tornato, il successo con la sua nuova Fiat 500X motorizzata BMW, dopo un lungo periodo di gestazione e qualche grattacapo di troppo. Tutti qua a Cingoli con una macchina nuova, alle prime armi, abbiamo cominciato a testarla. Giro per giro abbiamo aumentato il ritmo, la macchina non ha dato grossi problemi, tranne che è un manicotto dell'acqua. E poi questa pista qua per me è una pista fantastica, mi piace guidare qui dentro, le farei tutte e sette qua, devo dire che è stata una bellissima gara. Ringrazio tutti i miei amici, tutti quelli che mi danno una mano, e specialmente anche questi qua di Cingoli che ci invitano qui, anche se purtroppo eravamo pochi, ma è stata una bellissima gara. La gara marchigiana, orchestrata dalla Federazione Italiana Fuoristrada con il supporto del motoclub a Fagioli e del club Monte San Vicino 4x4 Offroad, ha purtroppo risentito dei numerosi ritiri avvenuti nella precedente gara a Malpensa, su 34 iscritti solo 19 al traguardo. I 16 piloti al via al crossodromo Tittoni comunque hanno dato uno spettacolo degno del livello che il CVF è solito riservare, con salti da brivido che non hanno nulla da invidiare a quelli dei funamboli delle due ruote che di solito si esibiscono in questa spettacolare pista ad anfiteatro, incastonata all'interno della cittadina di Cingoli. Veniamo alla cronaca della gara nelle varie categorie. In classe A2 si è rinnovato il classico duello tra Luca Righelli e Claudio Labruzzo. Viste le premesse iniziali con una vittoria a testa nelle prime due prove, ci si aspettava una gara incerta fino all'ultima prova. Ma la rottura del differenziale posteriore di Righelli, con conseguente sfilamento dell'albero di trasmissione nel corso della terza prova, ha spostato l'ago della bilancia a favore di Labruzzo. Quanto alle classi TM2 e TM3, detto delle assenze eccellenti di Gonella e Lonardi, l'equipaggio Bertolani-Fontanini e Claudio Esposto stavolta nulla hanno potuto contro lo strapotere dei prototipi dei gruppi B3 e B4, e complici anche la rottura di un tirante posteriore per Bertolani in prova 5 e lo sfilamento dell'albero di trasmissione per Esposto in prova 2 si sono dovuti accontentare rispettivamente del terzo e quarto posto assoluti. Una pista fantastica, un combattimento interessante con Claudio Esposto, un problema alla quarta manche su un braccio rotto, e nell'ultima manche ho rotto il differenziale anteriore ma l'abbiamo tenuto dietro, quindi ottimo risultato. È stato veramente bello, una pista da paura, ragazzi, cingoli sempre il top. La classe B1, una delle categorie da sempre più combattute, ha sofferto più di tutte la mancanza dei piloti, vedendo alla partenza il solo Alessandro Bianchi che ha concluso al nono posto assoluto, rallentato da qualche problema la pompa dell'acqua. Si potrebbe definire la classe B2 la quota rosa del CVF, con tre donne alla partenza e con l'equipaggio tutto femminile Rodella Lebole che si è piazzato primo nella classifica di categoria, davanti all'equipaggio misto Lanfranchini-Panizza. Ritiro per Renato Reggiani, che per via della rottura della cinghia servizi nel corso di prova tre ha preferito fermarsi per evitare danni maggiori al motore. Che spettacolo le classi B3 e B4. Senza nulla togliere agli SSV la differenza a cingoli l'hanno fatta i motori da moto che hanno dominato la gara come non si vedeva da qualche tempo. Complici l'ordine di partenza e i relativi abbinamenti che si sono creati tra piloti e andata in scena a una gara fantastica con sfide entusiasmanti senza esclusioni di colpi. Detto del dominio di Ivano Nicoletta che è andato a vincere la saluta, Enrico Giudici e Stefano Fioroni hanno infiammato il pubblico presente con i loro ripetuti salti fianco a fianco. Questa eccessiva vicinanza nel corso della seconda prova ha portato ad un contatto tra i due, in cui la vettura di Giudici ha riportato la rottura del triangolo anteriore sinistro, fatto che gli ha impedito di chiudere la prova oltre a fargli rimediare dieci ore di penalizzazione, che hanno pesato parecchio sulla sua posizione finale in classifica. E' continuato l'affiatamento di Stefano Pavesi con la nuova vettura dotata di due motori, mentre è stata una giornata no per Massimo Reggiani a causa di ripetuti problemi di temperatura ai motori, che gli hanno impedito di completare le prove 2 e 3. Gli hanno anche fatto rimediare una penalizzazione nella prova 4, perché per tentare di riparare il guasto si è presentato in ritardo alla partenza. a numero 24 ha fatto un vero modo.